Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Benvenuti alla nuova puntata e ospite abbiamo Luca Mazzieri. Allora, la prima domanda, Luca, a questo punto artisticamente, professionalmente noi ti conosciamo, ma se ti dovessi descrivere, perché ti ascolta, come descriveresti Luca? Allora, Luca è un giovane adulto di 48 anni che da tre anni a questa parte vive in campagna con la moglie, due cani adottati, cinque gatti, che dopo aver suonato in giro per il mondo, perché io ho avuto un paio di band rock, per cui ho avuto anche la fortuna di far uscire dischi in America, aver girato tanto, ha capito che quella è la realtà che gli appartiene e la musica è diventata sempre la cosa più importante, ma è una cosa molto a contatto con questa dimensione di... in mezzo alla natura e di uomo che sta crescendo e che sta trovando il suo spazio nella vita. Quindi fondamentalmente sono quello. A questo punto, dato partiamo del descrivere come nasce questo brano Spari, da cosa tra ispirazioni e come poi nel tempo si è evoluto, perché uno nasce un'idea, poi la fa crescere e l'evolve. Come si sviluppa? Ma guarda, la canzone nata molto velocemente parla fondamentalmente del volersi bene, cioè penso che tutti più o meno abbiamo passato dei momenti in cui non eravamo in forma, ma diciamo che anche questo periodo storico ha portato anche magari quando eravamo chiusi col Covid a lavorare molto su noi stessi. Beh, io non ero... c'è stato un momento che non ero tanto in forma, ero un po' giù di morale. Poi un pomeriggio, io ho questa fortuna, come ti dicevo, di vivere in campagna, una casa in campagna con le piante da frutta, eccetera. Sono uscito una sera che ero preso abbastanza male e ho visto i miei cani che giocavano con mia moglie, i gatti che si rincorrevano. Era verso l'orario dell'imbrunire, c'era una luce pazzesca, volle lavande e questo profumo fantastico. Ho detto, dai, cazzo alla fine non è così brutta la vita. Quindi fondamentalmente ho scritto una canzone velocissimo, chitarra e voce su questa voglia di tirarsi sempre fuori dai guai. Dici che ti spari ma non ti spari mai. Cioè anche quando pensi che non ce la fai, poi trovi sempre l'energia per farlo. E l'idea era proprio quello, un po' di contrasto, creare una canzone con un velo di malinconia, ma abbastanza alle grotta, da cantichiare. Dopo l'ho portato in studio, ho registrato il disco con questi ragazzi. Noi che siamo tutti dei vecchi rocchettari e punk, in realtà abbiamo riscoperto quest'amore viscerare per l'Italia anni fine 70, 80, dalla, eccetera. Tu conta che io sono a mezz'oretta di motorino da Vasco e quando ero Cino andavamo a Zocca a trovare Vasco e lui ci salutava, ci allungava anche le dirette. Quindi questo suono un po' ci è rimasto dentro e quindi quando l'ho portato in studio, chitarre, trombe, piano, abbiamo fatto questa canzoncina da due minuti per essere contenti. Io dico sempre, è una canzone da ascoltare con i finestrini abbassati, da cantare a squarciagola. Chi impara le parole, logicamente. Abbiamo visto anche il videoclip dove tu sei coprotagonista in diretto del cantante che in realtà non è il cantante. Esattamente. In realtà il gioco del regista che si chiama Nicola che aveva era un po' così, diciamo così, volevamo fare un primo video molto giocoso. Io in realtà non dovevo neanche comparire, poi in realtà sono una specie di stalker. Il personaggio centrale di questo video l'ho recuperato con grande orgoglio. Si chiama Dindo ed è un ex-punk di Pavullo, il paesino dove abito io. È stato forse il primo punk di Pavullo, adesso c'è una sessantina d'anni. Lui era il benzinaio di questo paese dove abito io, una paese da 10.000 abitanti, 14.000 abitanti, adesso che si è evoluto. Quando andavo a fare benzina da lui, che ero cino, lui mi faceva sempre trovare una cassettina prima in Moto Psyco, poi in Nirvana, tutto un po' se le band qua. E quindi è sempre stato presente. Io lo chiamavo il mio spacciatore musicale. E così un giorno l'ho incontrato qua in paese, ho detto, ascolta Dindo, vuoi fare il mio video? Lui è un istrionico di quelli incredibili, è venuta fuori la sua vena di performance, di performance di 30 anni fa, ed è incredibile, perché se il video sta girando nel nostro paesino tantissimo, è tornato in auge anche lui, è una cosa fantastica. Tra l'altro, guarda, le notizie di oggi che mi hanno chiesto se andiamo a presentare il video il 5 di agosto qua al cinema di paese, prima della proiezione di Elvis, quindi andremo io e Dindo a raccontare un po' il video e lo proietteranno prima di proiettare prima Elvis. Quindi Dindo nuovamente rock star. Hai detto appunto che hai suonato anche fuori, la musica trasmessa anche la BBC One, cioè che cosa cambia tra l'Italia e l'estero a livello musicale, secondo te, e soprattutto che impressione a livello gestito musicalmente queste cose? Allora, non vorrei sembrare il classico che dice che noi siamo molto provinciali, diciamo che però la parte più grossa della mia attività musicale in cui sono stato in America, si parla del 2010-2011, ho fatto quegli anni lì, ho fatto anche tanti tour, anche lunghi, da 4-5 settimane, quindi ho girato tutta l'America. Diciamo che di base anche nelle situazioni più DIY, più semplici, più basiche, il livello di professionalità comunque che sia dal fonico al musicista è più alto. Poi hanno meno storie, diciamo così, c'è meno conflittualità tra le scene, diciamo, ognuno fa la sua roba e va avanti. Quindi è un ambiente che mi è piaciuto tantissimo e di cui conservo tuttora non solo ricordi, ma tanti amici. Prima del Covid, quando andavo anche a fare un giro di vacanza, ormai in tanti posti, che sia America, sia Europa, riesco ad andare a dormire a casa di amici che sono stati musicisti con cui abbiamo condiviso magari 10, 8, 5 date, ma per cui siamo rimasti ancora legati, ci scriviamo ancora. Mi sono sposato con Linda, mia moglie, nel 19, e nel mio matrimonio sono venuti musicisti un paio dalla Spagna, un paio dall'Inghilterra, molto piacere, stanza bella. La differenza in questo senso è forte, però è un'esperienza che va fatto, ma non voglio neanche vivere nel ricordo di quello. C'è tante cose belle anche qua da noi in Italia, magari vanno un pochettino più ricercate. Quello che interessa a me è un po' un recupero anche di situazioni piccole da provincia, che sono quelle, il bar, la sagra, la festa della birra, che un po' mi mancano e allora volevo recuperare quelle. Non lo so, ci trovo forse ancora un pochettino più di sano e di viscerale. E invece l'emozione di aver suonato, suonare dal vivo quando ti si apre la quarta platea davanti a un certo numero di persone, che può essere 10, 1000, 100, 100 mila, qual è la, che poi loro stanno inizialmente in silenzio e poi quando sentono suonare si emozionano, cantano, urlano, oppure stanno in silenzio. Qual è la tua reazione in cui loro ti inventano quell'energia che tu la riprendi e gliela ritrasmetti? Qual è la tua sensazione a quel punto? Guarda, se ne vivono di tutti i tipi e poi alla fine diventa una droga nel senso che a me è capitato, hai detto bene, di suonare davanti a 5 persone, guarda, ho suonato chitarra e voce in un paesino della provincia di Parma questa domenica e c'erano direi, non so, 4 tavoli con 4 famiglie, sono andate 16 persone che non mi conoscevano perché ormai sono ripartito e oppure ho fatto, non lo so, ho suonato di spalla la band come Arcade Fire in contesto a Luca Summerfest davanti a 5.000 persone. L'emozione è quasi più forte quando sono in pochi perché devi andare a superare soprattutto quando sei sconosciuto. Io sto ripartendo, è come una nuova ripartenza e non ho neanche il disco fuori, ho fuori una canzone, però le emozioni sono sempre belle perché è la sfida di provare a comunicare all'inizio quindi non solo di rompere una barriera ma anche di trovare un punto di contatto ed è bello uguale nel senso che quando sei lì che fai le tue canzoni l'emozione è sempre incredibile. È logico che magari l'entusiasmo che ti può dare una plattea grossa più che altro che applaude subito può essere più consolante di le prime tre canzoni che fai dove 5 persone ti guardano come dire ma chi è sto qua? Però trovi sempre a un certo punto la volontà di trovare il punto di incontro e quindi è bellissimo. Le emozioni sono incredibili altrimenti penso che non continuerei a farlo a 48 anni perché molte volte se uno ci pensa tecnicamente potrebbe essere più la fatica che il gusto però invece la bellezza e l'emozione che ti dà a suonare e cantare le canzoni che fai te è incredibile ed è il motivo per cui adesso sono passato all'italiano perché non posso più permettermi di andare all'estero e quindi mi sembrava un po' strano per me andare a suonare che ne so a Parma a Ravenna come a Sestola in un paesino dove andrò a suonare a breve e parlare con una lingua che non è quella comune delle persone che si trovano in quel momento. E quando sei sceso al palco quali sono le prime domande che ti fanno le persone che ti incontrano? O ti viene un autografo? C'è stato? No, no sì qualche autografo è capitato molte volte è capitato anche di gente che ti chiede solo semplicemente tecnicamente che strumenti usi però sì è tanta l'adrenalina quando c'hai io di solito quando scendo dal palco mi prendo solo 5 minuti da stare da solo per riallinearmi dopo le domande sono di tutti i tipi ma qualsiasi domanda arriva è sempre ben accetta anche qualche critica mi sono andata qualche critica quel pezzo lì non mi è piaciuto perché dici quella cosa però tutto quello che arriva è frutto di uno scambio quindi passati i 5 minuti hai preso un camparino va tutto bene di domande me ne sono capitate tante autografi pochi ma sono stati chiesti anche quello quindi è un piccolo piacere che ti porti perché io stesso di autografi ne ho chiesti quindi è una piccola ruota che gira e ti fa piacere pensare di poter essere un raggio anche tu di questa ruota che gira c'è musicalmente qualche artista che poi in realtà ti ha fatto crescere anche professionalmente a livello musicale allora ci sono i mostri sacri nel senso che io sono un gran fan di Lou Reed sono un gran fan di Dalla mi piaceva tantissimo Bowie queste sono cose che si ripetono diciamo che in questi ultimi 2-3 anni gli artisti per cui ho preso questa sbandata che conoscevo meno e che mi hanno dato tanto sono stati beh l'ha riscoperto un po' di Ivan Graziani come personaggio tantissimo e ti devo ammettere a livello più un pochettino più piccolino ho apprezzato tantissimo che lo conoscevo poco Di Martino che è un cantautore che adesso ha diventato abbastanza famoso con la pesce pensate a Sanremo e ho recuperato i suoi album vecchi del pre con la pesce mi è piaciuto tantissimo ho trovato in lui tanti stimoli di una scrittura italiana molto interessante e oltre alla musica lavori anche ancora con la musica perché sei cofondatore di una casa discografica cioè di produzione discografica esattamente facciamo anche quello sì è quella è nata una decina di anni fa si chiama la Barberia Records che gestisco con un amico è una cosa piccolina abbastanza locale però nel corso del tempo abbiamo il nostro piccolo giro è una cosa molto carina abbiamo la cosa più interessante che abbiamo fatto è stata forse una delle prime etichette in Italia dieci anni fa a recuperare le musica sette quindi il nostro scopo è sempre stato essere una cosina abbastanza di nicca abbiamo sempre fatto tirature di dischi intorno 100-200 copie ma edizioni limitate ben curate cerchiamo di prendere solo piccoli gruppi possibilmente locali e vogliamo farli crescere un pochettino e una parte un pochettino più importante della nostra etichetta ultimamente covid a parte ma stiamo a riprendere era anche proprio organizzare serate cioè qua da noi nella zona di Modena c'è stata la possibilità di organizzare serate in cui magari far combinare qualche artista un pochettino più grosso a qualche artista un pochettino più giovane per permettere loro di emergere un pochettino cioè lo scopo noi farci particolarmente i soldi non ci interessa promuovere la musica ai giovani del posto molto e quindi è una cosa così porta via tanto tempo tanto impegno ma è anche molto gratificante e vinili nel vinili sì cassette vinili poi adesso stiamo rincominciando con i cd per un discorso figlio della pandemia cioè adesso ormai stampare un disco cioè il mio stesso il mio stesso album che uscirà qua in ottobre per quanto io abbia sempre fatto la mia musica in vinile uscirà in cd ma per un discorso semplicissimo stampare un vinile adesso vuol dire averlo fisicamente in mano un anno e mezzo dopo e quindi non ha un gran senso perché è inutile che io magari registro un disco che esci in ottobre mi farai un ottobre un giro di club a suonarlo e non ho niente da venderlo perché il posto dove si vende è i concerti noi l'80% dei dischi che vendiamo lo vendiamo ai concerti online ormai non si vende più niente ma anche bello a me sta bene io sono un fan del contatto umano quindi è più bello cioè mi sta bene che la gente ascolti online in streaming i dischi che venga a vederci i concerti compri il disco se ne ha voglia perché così si supporta anche l'artista senza andare a diluire rincasso tra distributori eccetera è un po' la mia idea noi amiamo molto il vinile quindi infatti compriamo molto spesso il vinile ah sì anche io dei miei artisti sono vinile quindi che amo io sono vinile compro e a questo punto una domanda che è un pochino generica inteso che il talent il Spotify ma anche X Factor Amici la musica la fa crescere artisticamente oppure alla fine ci troviamo artisti usa e getta cioè un brano due brani un disco due dischi due stagioni poi finisce il dimenticatoio oppure si cerca di far crescere il giorno guarda è una domanda che in realtà nasconde una risposta molto complessa e ti dico come la vedo io nel senso che ho un'idea molto che cambia nel senso che tra l'altro da X Factor o da questi posti di qua sono passate anche persone che io conosco e con cui magari ho collaborato non sempre artisti quanto anche non so vocal coach Alessandro Reina che l'aveva fatto per un certo periodo aveva scritto una canzone con me lui è un ottimo autore allora secondo me è una cosa particolare da una parte se sfruttato con talento può essere un ottimo trampolino di lancio per artisti che hanno già comunque una loro visione una loro struttura e quindi non è il male anzi ci mancherebbe cioè quest'anno c'è andato il mio amico si chiama Phil Reynolds è stato eliminato dopo non tanto era della squadra di Manuel Agnelli però adesso ha tratto un beneficio incredibile perché molta più gente l'ha conosciuto lui è molto bravo è sempre stato molto bravo si è ampliato il suo seguito e quindi ha beneficiato lui ma anche il pubblico ha scoperto un artista valido quindi non sono il male in assoluto l'unica cosa su cui ogni tanto io non mi piace tanto di questa tipologia di talent è che appunto magari ogni tanto col fatto che sia giudicato e giudicare l'artista sembra un po' particolare soprattutto perché lo so Lucio Battisti al suo tempo era stato criticato diciamo che cantava male cioè se tu mi vai a porre un contesto di un talent in cui il giudizio è cantare bene basta o sapersi muovere o essere disinvolti per chi non ha una sua struttura può portare la gente che si approccia alla musica a pensare che gli unici valori che contano sono quelli cioè cantare bene essere fighi e sapersi muovere mentre in realtà penso che da quando c'è la musica la musica serve per comunicare quindi è un'altra cosa quello che serve ripeto ridico Battisti perché l'ho guardato recentemente un programma vecchissimo dove c'erano i ragazzi che gli dicevano che non sapeva cantare adesso voglio dire Battisti è indiscutibilmente uno dei tre artisti più fondamentali della musica italiana di sempre probabilmente a X Factor sarebbe stato eliminato ai campi quindi è quello per cui non è il male non è il bene è uno strumento come tutti i strumenti aveva utilizzato ma Neskin l'ho usato molto bene direi e però hanno cantato una canzone adeguata nel momento giusto al momento giusto che è quella in inglese anche con i t-pop hanno saputo sfruttare hanno saputo sfruttare il momento di sfruttare esattamente ma anche perché anche un altro personaggio che tu hai citato all'inizio che andavi a scroccare gli autografi e lui ti passava bene che ha iniziato il suo successo al terzo quarto album perché io mi ricordo il primo festival di Sanremo di Vasco Rossi dove vada al massimo a un certo punto uscire al palco a metà canzone erato ultimo esatto sì sì ma ci hanno messo tanto ma tanta gente ci ha messo tanto l'importante è come artista secondo me cercare di essere sempre sinceri e coerenti con quello che fai e non perderne mai la voglia poi è una ruota che gira e se becchi il giro buono becchi il giro buono cioè i Manneskin al netto di tutto hanno riportato le chitarre e sono arrivate il momento giusto dove c'erano solo dei trapper la gente le critica perché fanno la musica che faceva la gente nei bar però in quel momento non c'era gente almeno in televisione che suonasse la chitarra e saltasse sono arrivati loro bravi cioè che dire bravi a te ti hanno mai detto che assomigli a qualche artista? allora dici musicalmente o fisicamente? no fisicamente io parlo musicalmente ti hanno mai detto? ma guarda penso di sì la so in realtà le cose che abbiamo fatto prima erano io non ero mai un artista solista sono sempre stato parte di una band quindi abbiamo avuto queste band che avevano richiami mia sonorità inglesi di band inglese con Luca Mazzieri essendo uscito fondamentalmente spari adesso assomigliare ad un artista vero e proprio o no assomigliare ad un'idea di musica italiana sì una cosa che mi ha detto carino un ragazzo così fa io di musica non ne capisco niente ma mi ha fatto venire in mente Cesare Cremonini che non so se lui l'abbia inteso come complimento o come offesa io l'ho preso come un grande complimento perché al netto che possa piacere o non piacere persona di grande talento con un'ottima scrittura e poi anche se ti capito di guardare le interviste è decisamente gradevole quindi io l'ho preso come un complimento invece noi quando tu hai detto le cose che abbiamo che ci aggiungo in comune esatto ricorda più come genere come sensazione inizialmente io abbiamo sentito l'ultimo brano ma anche il brano precedente del 2020 a Daniele Silvestri non so perché mi è venuto in mente il Daniele Silvestri ma guarda lo prendo come complimento anche questo c'è tutta gente che comunque ha sono nel giro da tanto e il livello qualitativo è sempre stato buono poi l'ho sempre trovate persone molto focalizzate molto mi sono sempre sembrate molto sincere e onesti in quello che facevano quindi grazie mi piace mi piace quindi abbiamo scoperto un nuovo Daniele Silvestri magari 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 con Daniele Silvestri poi ci suonava la chitarra era Alex Britti e il basso Max Gazet quindi è per te esatto su Britti sono meno preparato Max Gazet sono un discreto fan anche lui veramente bravo tra l'altro Max Gazet che i testi gli scrive il suo fratello che è compositore notevole Max Gazet fortissimo a suonare bassista incredibile e invece l'ultima cosa sull'ultimo brano abbiamo visto questa copertina con tu e appunto ammetto che stai in montagna e tu hai tutte le foglie dietro perché questa copertina? ma in realtà è una copertina del singolo è venuto su questo mio amico che è un artista che fa anche il fotografo si chiama Patrick Aleotti e gli ho chiesto se faceva una session di foto con la macchina analogica non digitale a casa mia la copertina in realtà del disco è diversa poi dopo mentre eravamo lì abbiamo fatto una sfilza di foto tendenzialmente da usare promozionali questa era una delle idee che avevo io di primo piano perché ricorda un po' tutta una serie di quelle copertine che si facevano negli anni 70 quindi l'idea è un pochettino di ricalcare quell'idea viso in primo piano quindi abbiamo usato questo adesso faremo penso un altro singolo prima dell'album mi piacerebbe per fine agosto ne useremo un'altra simile e poi dopo verrà fuori la copertina comunque sì l'idea del bucolico lì è proprio il giardino di casa mia sono i boschi dietro casa mia ci tenevo che fosse proprio tutto vero tutto molto semplice niente set niente roba costruita il disco l'ho scritto in campagna vivi in campagna le foto sono della mia campagna nello studio tuo di produzione quanto è importante a questo punto tu hai citato prima il vocal coach quanto è importante può essere utile per i ragazzi soprattutto in questo periodo che parlano il corsino era un argomento quello più che un vocal coach per quellissimo a me ci vuole un po' di lavoro estivo nel senso che devo andare a raccogliere la sporcizia nei fiumi sono tolte le battute quella è una roba incredibile diciamo che io per esempio che non ho una grande voce avere qualcuno che mi aiuta ogni tanto anche mi corregge e mi segue aiuta a rendere quello che vuoi comunicare un pochettino più decente poi c'è gente che nasce fortunata e canta benissimo senza problemi di sorta chi come me canta come può ma vuole comunque cantare le proprie canzoni una mano è sempre meglio che ce l'abbia ricordiamo un'intervista di Faletti quando disse la differenza tra me e Mina è che un giorno entro nello studio vedo Mina entrare a prendere il microfono mettere le cuffie cantare il brano a pocciare le cuffie e andare via a tutti io ho fatto la stessa cosa sono entrato nel studio ho messo le cuffie ho cantato la canzone ho poggiato le cuffie a un certo punto mi sono andata via e mi sono sentito dire Faletti dove vai? poi c'è da ricantare la canzone che non va bene proprio così è esattamente quello è la differenza hai detto ho capito che non ero bravo come Mina esatto però non per quest'uno si deve privare della possibilità di farlo e allora lì servono i vocal coach sì ringrazio a tutti grazie mille ragazzi per l'ospitalità ci rivediamo vi saluterò da Sanremo quando arriverò ultimo come vasco allora al momento mi trovate classici classici canali io mi chiamo Luca Mazzieri su Spotify su YouTube magari seguitemi anche su Instagram e su Facebook più che altro perché metto le date dove vado a suonare questo è stato qualche concertino non ne faccio tanti perché stavo aspettando il disco però se vi capita e siete in zona venitemi a salutare e ci beviamo un camparino assieme Studio 7 in collaborazione con Sport e Piceno Game presenta l'intervista di Pietro Grazie a tutti per la tua Grazie a tutti Grazie a tutti.